Tra Pistoia e Santiago di Compostela, una nuova collaborazione nell'anno santo jacobeo è realizzata con la mostra aperta in questi giorni nella celebre città spagnola. Mostra fotografica dedicata all'altare agente di San Jacopo custodita nella cattedrale di San Zeno, realizzata da Nicolò Begliomini sul progetto della Giorgio Tesi, editrice. I cui dettagli sono stati illustrati in una conferenza stampa a Palazzo di Giano. La collaborazione con Santiago di Compostela, iniziata con il libro sull'altare argenteo, ha dato là tutte queste iniziative che nel corso del tempo, portate avanti dall'amministrazione in maniera incomiabile, hanno portato veramente a questo risultato eccezionale. Abbiamo inaugurato anche un infopoint che durerà un anno, fino a giugno 2022, presente nella più grande struttura recettiva di Santiago. Per quanto riguarda la mostra, invece, siamo molto contenti perché ha trovato nelle istituzioni galiziane, nel rettore dell'università, una grandissima conoscenza culturale delle nostre tradizioni, legate all'apostolo Giacomo Maggiore, quindi siamo veramente in linea con il programma che stiamo portando avanti per arrivare poi al gemellaggio. Questo passo per cui le nostre ricchezze, le nostre bellezze che sono state realizzate attorno alla reliquia dell'apostolo Giacomo, trovano posto anche là a Santiago, da dove è provenuta la reliquia, è una cosa bellissima ed è un segno di comunione, di fraternità anche tra popoli, tra città. È un'eccellente opportunità, voglio ringraziare la Diocesi, voglio ringraziare la Giorgio Tesi Editore, voglio ringraziare tutti quelli che hanno in qualche modo collaborato anche all'apertura dell'Info Point a Santiago. iniziano e continuano i rapporti importanti con la città del Santo e che mi dicono sta cominciando anche a riprendere in termini di turismo, in termini di pellegrinaggi e questa unione di carattere amministrativo, religioso e di promozione non può che far bene a Pistoia.